E' la storia a richiederlo e il buonsenso a sollecitarlo. Quando la città si unisce, vince, come dimostrato in occasione del terremoto 1693 della peste del 1743, quando si divide, perde. Questa è in estrema sintesi la riflessione del professor Uccio Barone in occasione della conferenza Un santo e una città San Giorgio nella storia di Ragusa, ospitata nei giorni scorsi al circolo di conversazione di Ragusa-Ibla. Barone è evidenziato come la presenza di San Giorgio dal punto di vista storico sia profondamente radicata nella storia di Ragusa, come testimoniato dagli atti più volte consultati. L'elezione di San Giorgio a padrono principale di Ragusa fu ratificata ufficialmente il 10 maggio 1643 nel Palazzo della Cancelleria, alla presenza di 20 giurati che presero atto del motu proprio di Papa Urbano VIII, che imponeva ad ogni città la scelta di un solo padrono principale con diritto di festa di precetto. Fu a seguire e suggellata con decreto pontificio dell'8 agosto 1643. Nelle informazioni del professor Barone, poi che ha fatto riferimento durante tutta la conferenza alla chiesa matrice di San Giorgio, le vicissitudini di vario tipo con cui i san giorgiari nel corso dei secoli hanno fatti i conti, dalla divisione amministrativa di Ragusa sino alla riunificazione nel primo ventennio del secolo scorso. Una lunga articolata storia che, stando a quanto riferito dal professor Barone, si è sviluppata attorno ai due santi padroni della città e la cui tradizione adesso risulterebbe particolarmente impoverita se a San Giorgio non venisse riconosciuta la dignità di compatrono con lo stesso grado di solennità. Negli anni 80 del secolo scorso, a fronte di quotanta storia, fu dimenticato di scrivere la ricorrenza legata a San Giorgio nel calendario liturgico. Quindi, per come è stato spiegato, ciò si invicherebbe che nulla è necessario riconosce trattandoci già di padrono. Ovviamente tutto questo nulla toglie a San Giovanni Battista, neanche la festività civile, ma restituisce a San Giorgio ciò che la storia della città nei secoli testimonia. Quindi la giusta soluzione proposta e prospettata dal professor Barone nel rispetto della storia della città e del suo popolo, vale a dire la dichiarazione dei due padroni equi principali per la città di Ragusa. Anche perché, come spiega lo stesso cattedratico, in questi casi ci si muove con saggezza canonica e con saggezza di carattere politico-culturale. Ecco perché questo significa riconoscere entrambi i santi la profonda devozione del popolo ragusano e muoversi per un compatronato equi principali. Vedremo cosa accadrà.